Vincenzo De Luca torna ad attaccare il governo. Nel consueto punto settimanale sull'emergenza covid il presidente della giunta regionale denuncia nuovamente la sperequazione nella distribuzione dei vaccini ma anche i ritardi nel via libera Sputnik riservando anche una stilettata all'indirizzo del commissario il generale Francesco Figliuolo. Quando si hanno funzioni civili io credo che sia inappropriato andare in giro in abiti militari tuta mimetica anfibi e cappello militare. Ripeto la mia domanda al governo e al commissario di governo per quale motivo continuate a dormire in piedi e non chiedete ad AIFA l'agenzia di controllo del farmaco di valutare gli altri vaccini disponibili. Mi riferisco a Sputnik. De Luca ha poi criticato la politica di apertura delle scuole snocciolando i numeri dei contagi nelle classi di Napoli ed ha firmato un'ordinanza con la quale prevede una presenza in classe nelle scuole superiori non oltre il 50 per cento giudicando poi una presa in giro il coprifuoco alle 22 con i ristoranti aperti di sera. Via libera inoltre alla vaccinazione a Capri, Ischia e Procida per rendere le isole covid free. Con la stessa ordinanza la numero 16 autorizzate le asle regionali ad organizzare gli open day dei vaccini con giornate di somministrazioni libere ai pazienti. De Luca ha poi annunciato il via libera dal ministero della salute ai bandi da 170 milioni di euro per finanziare l'edilizia ospedaliera. In programma interventi di riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie e territoriali e per l'acquisto di nuove attrezzature.